Xavier Chevrier a Borovec, quarto, ma non di certo deluso. Ah no, assolutamente non deluso, anzi per me è una sorpresa perché vabbè, da buon maldostano una medaglia di legno mi fa più che bene. In salita non sono un fenomeno, oggi ho fatto una fatica immonda come tutti, però sono contentissimo perché ho battagliato veramente per quasi tutta la gara per il terzo posto insieme ad Aslan. Il nostro Super Bernie oggi era una fionda imprendibile, grande Alex che nonostante la febbre di due giorni fa ha fatto un garrone eccezionale, per un attimo ho sognato un po' di tutto azzurro, poi davanti avevo Monsignor Aslan, quindi è giusto così, contentissimo, viva la nuova gestione, viva Germanetto.